ultimamente non ti sembra un po' strana tua madre è sempre strana mia madre mi dici qual è il problema mamma mi scusi ma lei è dentro la mia macchina no laggiù no no anatra donnola coniglio qual era la prima una toccante commedia sulla vita e i suoi imprevisti malattia non si stabilizzerà le cose cambieranno troveremo un equilibrio la folle vita in esclusiva su rai play molto più di quanto immagini grazie